Come estragnarci quando altri impugnano la spada? Come essere cristiani fabbricando spade con cui altri si uccideranno? Oggi purtroppo si realizzano armamenti micidiali e sofisticati. Dare ascolto all'appassionato grido del Signore vuol dire smettere di vendere armi. Quindi, considerando solo il proprio interesse economico, non esistono giustificazioni in proposito. Fossero quelle dei posti di lavoro che si perderebbero con la fine del commercio delle armi. Per questo, penso al giro di Dio che si scatenerà sui responsabili di quei paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare questo guardo. Non, non è... Non è...